La comunità scientifica ha confermato l'efficacia della luce nella cura dei nostri occhi. La fotobiomodulazione per la maculopatia e la cura della retina, le sostanze purissime tratte dagli estratti vegetali benefici per gli occhi, differenti emissioni di fotoni per la correzione dei difetti visivi e della presbiopia, sono una realtà riconosciuta da prestigiose pubblicazioni scientifiche e società scientifiche internazionali. Nella prossima puntata il dottor Pinelli ripercorrerà le tappe dell'uso innovativo dei fotoni in oftalmologia. Non perdere il box Pinelli di venerdì 8 maggio alle ore 21 su Telecolor LCN 18 in Lombardia, ETV Rete 7 LCN 10 in Emilia Romagna, ETV Marche e LCN 12 nelle Marche, Telecolor LCN 10 a Trento, ETV Umbria LCN 14 in Umbria, ETV Friuli LCN 16 in Friuli, ETV Liguria LCN 12 in Liguria, 19 LCN 19 a Trento Alto Adige e Canale Nazionale Salute e Natura LCN 82.